Il Castaldo, il cane e la volpe da Favole, dicende la Fontaine, tradotto da Emilio De Marchi, registrato per LibriVox.org da Paolo Fedi, settembre 2007, Roma. Si narra che una volpe delle fini solesse venire spesso per rubare dentro il cortile di una fattoria. Lupi e volpi non son cari vicini e accanto a casa loro, in fede mia, andremo al volentieri a fabbricare. Venia la volpe, ma con suo dispetto ai polli non poteva fare il colpetto. Tra il pericolo posto e la gran fame, di dentro si rodeva. Il padrone, diceva, il vecchio infame dell'artico ogni notte invento ed uso e dalle mie fatiche seguita sempre a ridermi sul muso. E mentre io corro e fuggo e di fame mi struggo, egli cangio i cappogni e le pollastre in soldi buoni e in piastre. Mentre ei ne tiene una fila impicciata, io, vecchia giubilata, salto di gioia e ballo, si acciuffa un vecchio gallo. Perché, dunque, chiamasti, o sommo giove, la figlia tua di volpe alla missione? Ah, giuro per Plutone e per il ciel che ci vedremo altrove. Questo prendendo in cor odio tremendo, mentre va di papave rispargendo Morfeo l'umida notte. Mentre il padrone dormia, e dormivano in casa i servi, il cane, polli, galle, capponi in compagnia, nessun si accorse, e fu un non poco errore, che aperterà la porta per di fuori. La volpe gira intanto, che alla fine trova la breccia aperta. Entra, e ti falta strage di galline, che tutta sangue va alla povera città. Allo spuntar del sole uscene salme gli accorrenti videro, ed osse e carni palpitanti al suol. A tanto horror poco mancò che il sole non tuffassi i cavalli in fondo al mare. O avessi le parole di colui che da Paul l'ira descrisse, quando tutto l'esercito trafisse dei greci, e fè volare le sette di fatal morbo infette, onde uccise le schiere a cento a cento in una notte il divo arco d'argento. Tal'intorno alla tenda fè di pecore e boi la strage orrenda, e fu ribondo agli ace, credendo vendicare sugli animali l'ingiuria dei rivali, che negategli avean l'armi di Achille. Questa volpe di lui, non meno audace, abbatte, uccide, piglia, e miseri scompiglia. Quando venne il padron, secondo il solito, prese a gridar coi servi e poi col cane, o bestia maledetta, o bestia stupida, buona a mangiar del pane, perché non abbaiar, non dare un segno? Se voi, signori miei, dice la bestia, padroni e servitori, a cui conviene invece di dormir come di solito vi foste tolta un poco la molestia di chiuder l'uscio bene, avreste fatto meglio. A me che importa, che senza guadagnarci perdo il sonno, se chiuso oppure aperta sia la porta? Questo discorso, tutto a fil di logica, avrebbe fatto onore. Non solo a un can, ma a un dotto professore. Ma siccome non era infinché un cane, in mezzo lo pigliarono, e finiva il meschin di mangiar pane. Io parlo a te, buon padre di famiglia, onor che non ti invidio. Guarda con gli occhi tuoi ciò che salvar tu vuoi. Non credere che, mentre dormi in letto, altri chiuda per te l'uscio e l'armadio. Se proprio la tua casa ti sta a petto, chiudi gli occhi per ultimo, e procura di non far mai nulla per procura. Fine della favola Il castaldo Il cane E la volpe Questa registrazione è di dominio pubblico.